Non che fosse una novità, non che qualcuno sia rimasto sorpreso ieri, qualche pazzo si aspettava un colpo di teatro finale, ma ovviamente non c'è stato, e ieri è stato ufficializzato, anche se la firma è arrivata già da una settimana, Paolo Fonseca, nuovo allenatore del Milan. E sotto voglio tantissimi commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, voglio il record di commenti di quest'anno sotto questo video, perché ragazzi voglio sapere se siete a favore, se siete conto, se siete neutri, se volete aspettare per giudicarlo, se l'avete già condannato, voglio sapere la vostra opinione, di tutti, quindi mi raccomando tantissimi commenti. Se vi va poi lasciate anche un like per sostenere il canale e se volete l'iscrizione è sempre gratuita. Allora, ieri abbiamo parlato di questa buffonata che hanno fatto, questa specie di conferenza stampa, che in realtà erano delle domande già organizzate, con delle risposte già organizzate, in cui alla fine non si doveva dire nulla, perché non è uscito nulla da questa conferenza stampa, non abbiamo capito nulla, se non che Ibrahimovic è bello, Ibrahimovic è carismatico, Ibrahimovic aveva un bel vestito, Ibrahimovic è il capo di alcune persone, quindi è più importante di quelli che stanno nel Milan, perché lui lavora per Redbird, non lavora per Milan, ci ha tenuto a precisarlo una ventina di volte. Quindi è stata completamente inutile questa conferenza stampa. Mi dispiace che qualcuno si sia fatto fregare un po' da quest'operazione che hanno fatto, che alla fine era la più intelligente, perché tu nella presentazione del nuovo Milan non potevi mandarci Furlani e Moncada, che dovevano essere quelli più addetti a parlare, perché se dovevi parlare di Milan del futuro, sono loro che lo stanno creando il Milan, non Zlatan Ibrahimovic, perché Zlatan Ibrahimovic ha spiegato bene che nel Milan ognuno ha il suo ruolo e quindi lui non va nel campo degli altri, quindi quelli che stanno gestendo le operazioni sono Moncada, Furlani, quindi avrebbero dovuto comunque parlare anche loro, ma non sia mai, perché che cazzo parlano Moncada e Furlani? State zitti, lasciavo parlare il dio Zlatan Ibrahimovic, che comunque con il suo fascino, il suo carisma e con approfittarsi del bene che molte persone vogliano a Zlatan Ibrahimovic, qualche tifoso l'ha intortato e si è fatto fregare. Io ovviamente ragazzi, ma proprio per niente, perché per me viene prima il Milan e poi dopo vengono i vari Ibrahimovic e compagnia varia, ma rispetto al Milan per me non valete nulla, cioè il Milan, io tifo Milan, non tifo le società, non tifo gli allenatori, non tifo i presidenti, non tifo gli ex giocatori, non tifo nulla. Poi ci sono alcuni giocatori che mi sono rimasti nel cuore e altri giocatori che meritano il rispetto, che quando parlano tu devi stare zitto e ascoltarli, di certo non stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic, che è un giocatore che sì, ci tiene al Milan, ma ci tiene più a se stesso, quindi ieri l'ha dimostrato per l'ennesima volta. Ripeto, molti non ci sono cascati e infatti comunque sono ancora della stessa opinione, alcuni si sono fatti un po' fregare da Zlatan Ibrahimovic, ma va bene così, ci sta, io vi capisco perché quel fascino è difficile resisterli. Io sono veramente dovuti passare tanti anni per distaccarmi dai calciatori e vedere solo la maglia, è una cosa che vi auguro di provare da tifosi, che è la cosa più bella, eliminare completamente i giocatori e tifare solo la maglia, che è la cosa migliore, fidatevi. Allora, parliamo di Paolo Fonseca, sono già partiti i Fonseca out ed era inevitabile ragazzi, perché è stata una scelta della società stramediocre, specialmente con gli allenatori che c'erano liberi, questa è una cosa che loro cercano di nascondere, anche ieri c'è stata la domanda su Conte, Conte non fa parte, non faceva parte dei criteri che noi cercavamo, i vostri criteri erano uno che non aveva delle richieste folli sul mercato, uno che non aveva un ingaggio alto da 7-8 milioni di euro, voi volevate uno yes man, uno che gli stai dando la grande opportunità della sua vita per venire ad allenare al Milan, gli dai 3 milioni di euro, si sta zitto, non starà lì a fare polemica con la società. Come ha detto Zlatan Ibrahimovic, il Milan non voleva un manager che gestiva tutto, ma voleva soltanto un semplice allenatore e quello hanno preso. Adesso Paolo Fonseca ha delle colpe in tutto ciò? No! Ragazzi, Paolo Fonseca non ha nessuna colpa, quindi in questo momento gli insulti dati a Paolo Fonseca o addirittura i Fonseca out, io li ritengo qualcosa di fuori luogo e questa è la stessa identica cosa che ho detto nel video di presentazione di Pioli. Bisogna criticare la società, è la società che ha sbagliato la scelta, è la società che ha fatto questa scelta mediocre, come la fece ai tempi con Pioli quando si poteva andare a prendere spalletti e hanno preso Pioli. Ed era una scelta mediocre e anche se Pioli negli anni ha vinto uno scudetto e magari ha fatto giocare anche bene il Milan, ma non cambia, quel giorno era giusto dire è una scelta mediocre, come oggi è giusto dire Fonseca è una scelta mediocre, si merita gli insulti? No! La società si merita gli insulti? Sì! Sì! Perché loro potevano scegliere di prendere un altro allenatore, loro avevano una scelta più ambiziosa, poi Fonseca può fare meglio di Conte al Milan? Sì! Può succedere, la palla è rotonda, nel calcio nessuno sa quello che accadrà e io mi auguro che Fonseca faccia bene, perché lui non ha nessuna colpa. Stiamo parlando di un allenatore che ha scelto il Milan, giustamente, chiamolo Fesso, e sta dando la massima disponibilità per cercare di fare bene. Perché adesso bisogna andare a attaccare Fonseca? Ieri mi sono permesso, non ho commentato praticamente quasi nulla, perché tutto quello che avrei commentato, specialmente su Zateni Premium, sarebbe stato negativo e non volevo andare a litigare sui social, ho detto mi faccio i cazzi miei, mi faccio il mio video che è andato anche molto bene e vi ringrazio di cuore perché il video di ieri ha fatto un po' di record sul canale in base alle ore di visualizzazioni, quindi vi ringrazio di cuore, l'avete praticamente guardato tutto, è davvero, è una cosa molto strana su YouTube, quindi vi ringrazio ancora. Mi sono fatto il mio video, mi sono stato zitto, mi sono permesso di lasciare un commento sotto la foto in cui il Milan dava il benvenuto a Paolo Fonseca in cui ho scritto buona fortuna con l'emoji della lacrimuccia, perché comunque non sono felice di questa scelta, continuo a dire che questa società è mediocre, penso che Fonseca farà male, questo è il mio pensiero, che Fonseca farà male e non avrà vita facile nel Milan perché già è difficilissimo fare l'allenatore del Milan. Figuriamoci quando arrivi già in queste condizioni che ha il primo pareggio, il primo 0-0, la prima sconfitta, il primo col subito, il primo infortunio, tutto quest'odio che adesso il tifoso del Milan sta accumulando contro la società, si rivolterà tutto contro Fonseca. Questo è inevitabile, quindi il lavoro che dovrà fare Fonseca è praticamente impossibile uscirne vivo, ok? Per uscirne vivo deve fare veramente un capolavoro, ma io glielo auguro con tutto il cuore. E ieri quando gli ho scritto buona fortuna con la lacrimuccia, manco un buona fortuna tutto felice, cioè ieri l'altimo uno mi ha scritto eh ma abbiamo pure buona fortuna. E allora che devo fare ragazzi? Ditemi che devo fare. Devo augurargli buona sfortuna? Devo augurargli di andare male? Devo sperare che il Milan perde così sono qua a dirvi ve l'avevo detto? Tanto non cambierà niente ragazzi. Alla prima sconfitta, alla prima cosa che non mi andrà bene, Fonseca lo massacrerò, lo distruggerò. Se con Pioli comunque ero stato buono per un po' di tempo, adesso a me non me ne frega niente, io andrò contro tutti. Questa società io la contesterò sempre. Se vincono lo scudetto, oggi festeggio, il giorno dopo sono di nuovo a ricontestarla finché non vedrò qualcosa di serio. E per me serio vuol dire programmazione, vuol dire arrivare a vincere perché l'hai programmato. Non così! Perché c'è gente come ieri, anche Ibrahimovic, ma anche altri giornalisti, Spondamila, che parlano ancora di quello scudetto. parlare dello scudetto di Pioli è da perdenti. Perché nello scudetto di Pioli, l'ha detto anche ieri Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa, il Milan nella griglia non partiva come favorita. Era un outsider, è stata una sorpresa. Io non voglio vincere lo scudetto da sorpresa. Perché lo scudetto da sorpresa vuol dire vinci oggi e poi vinci tra dieci anni, se ti va bene. Questo è quello che è successo. Abbiamo vinto uno scudetto e poi basta, non se ne ha fatto più nulla. Niente. Io voglio vincere perché sono sulla griglia o il favorito o uno dei favoriti. Non l'outsider, non la sorpresa. Quando faranno le griglie di partenza di quest'anno? Il Milan sarà tra i favoriti? No! Tutte le altre squadre si sono mosse meglio. Vediamo cosa faranno nel calciopercato. Perché adesso io sto parlando ancora di speranza, di miracolo. Ma se a Fonseca gli vanno a dare pure una squadra di merda. Non gliela vanno neanche a rinforzare quando tutti gli altri si sono rinforzati. E vabbè ragazzi, mi sa che mi metterò pure a difenderlo Fonseca in quel caso. Perché qua il nemico numero uno è la società. E molti non l'hanno ancora capito. E Zlatan Ibrahimovic fa parte di quella società. Quindi non è più un vostro amico. Non è più uno dalla vostra parte. È dalla loro parte. Capitelo. Aprite il cervello. Ibrahimovic non sta con voi tifosi. Ibrahimovic sta con loro. Quindi svegliatevi. E non andate contro a Fonseca in questo momento che non ha nessuna colpa. Ve lo dice uno che in questo momento lo schifa. Non lo voglio neanche vedere. Ma non li andrò mai contro adesso. Fatelo lavorare. Fatevi fare le sue cagate. Perché tanto probabilmente le farà le cagate. Perché se no, se fosse stato un allenatore all'altezza l'avrebbe dimostrato prima nella sua carriera. Ma magari fa qualcosa di buono. Si parla di gioco offensivo. Vediamolo. Magari fa qualcosa che è interessante. Molti avrebbero voluto tenere Pioli. Io avrei preferito spararmi nelle palle che tenermi Pioli. Se voi mi dite oggi voglio tenerti Pioli o Fonseca. Ma io ti dico Fonseca perché comunque c'ho un 1% di possibilità che mi va a sorprendere. Pioli ormai era quello. Aveva preso quella strada. Non tornava più indietro. Non azzeccava più un cambio. Manco per sbaglio. Non riusciva più a fare niente. Quindi ormai era una strada chiusa. Quindi io volevo comunque a prescindere cambiare. Poi è normale che la scelta è stata disastrosa dal punto di vista della comunicazione. Dal punto di vista delle alternative che c'erano. Perché manco a dire oh guarda c'erano tre allenatori liberi. Van Bomme, Lopeteghi e Fonseca. Tira il dado. Prendi chi cazzo vuoi tu. Per me è uguale. Non mi cambia niente. Sarò lì a sperare qualsiasi allenatore tu prendi. Ma c'era gente come De Zerbi. Che io sarei stato felicissimo di avere nel Milan. E lo volevo perché io volevo partire col piede giusto. C'era gente come Conte che avrebbe ritenuto. Arebbe fatto felice chiunque nel Milan. E invece no. Quindi la società. Voto. Zero. La società ha sbagliato ancora una volta. Ma perché? Non ha sbagliato per un errore. Ha sbagliato volontariamente perché quello è il suo obiettivo. E lo andremo a vedere anche col mercato. Perché adesso si parte con Fonseca. Che comunque poverino è un povero disgraziato che si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ok? E ripeto. Da parte mia in questo momento insulti. Fonseca out. Non ne troverete. Almeno finché non lo vedo giocare. Dopo lo bombarderò. O lo acclamerò se farà bene. Ok? Ma la cosa più importante adesso è capire che mercato faranno. Perché da quel che penso io il mercato andrà di pari passo con la scelta dell'allenatore. Le belle parole di Zlatan Ibrahimovic a fine mercato ve le potrete prendere e ficcarvele in quel posto a chi li sta credendo in questo momento. Poi se il mercato del Milan sarà straordinario, sarà faraonico, mi sorprenderebbe tantissimo. Ma io non credo che succederà. Non credo di essere sorpreso. Già Zig Zee l'hanno fatto passare come il nuovo Van Basten, come l'acquisto degli acquisti, quando era un acquisto normalissimo. Normalissimo. Cioè proprio la base dovevi partire Zir Zera. Ma manco il supercolpo. Colpetto. Buono. Buon giocatore. Sa giocare bene a calcio. Vediamo, no? Come ha detto anche Ibra, come saprà reagire a una maglia come il Milan o stadio come San Silo. Non è la stessa cosa che giocare nel Bologna. Piontek vi siete dimenticati? Piontek che ve lo siete scordati? Che era Gesù Cristo. Era una fusione tra Shevchenko e Van Basten al Genoa. Dicevano. Ve lo siete dimenticati? Ragazzi non è la stessa cosa poi andare a giocare nel Milan. Quindi io, Zir Zè, sarei contentissimo. Ma calma a dire acquistone della vita. Abbiamo risolto tutti i problemi. Non hai risolto proprio nulla. Quindi adesso ci concentreremo sul mercato e andremo a parlare di mercato. Ma saranno bestemmie per tutta l'estate. Perché tanto lo so già che il mercato del Milan andrà così. Già l'ho capito ieri. Ieri ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Ieri io già l'ho capito. Voi siete stati vum 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 così. Cioè vi ha vum vum vum. Ibraimovic vi ha fatto così e voi non avete capito un cazzo di quello che è successo. Ma Ibraimovic ieri si è capito abbastanza. E vedremo poi nei prossimi. Si giudichiamo guardando. Su Fonseca ripeto ragazzi. Se cercate un alleato in questo momento che vada a insultare Fonseca, che vada contro Fonseca, questo non è il canale che va per voi. Perché non mi sento di andare a accusare un povero Cristo che è stato preso e buttato lì. Non ha senso. Fonseca deve avere le sue chance come le ha avute Pioli, come le ha avute Giampaolo, come le ha avute qualunque allenatore del Milan. Appena farà male sicuramente non avrà nessun attenuante. Verrà massacrato, verrà giustiziato. È quello che volevate voi. Tutti quelli che in questo momento stanno dalla parte di Fonseca, io li posso anche capire. Tutti quelli che in questo momento stanno dalla parte della società e quindi stanno lì a leccare il culo a quello che ha detto ieri Ibra. E voi no. Eeeh! E come c'è il carro quando vinci? Eeeh! C'è pure il carro quando perdi! E poi voi no. Voi dovete stare zitti. Dovete stare lì con lo striscione Gerry Cardinale. Eeeh! Tutta la vita! E' come il matrimonio! Tutta la vita state voi con lui. Perché vi sta prendendo per il culo. E adesso se c'è gente che continua a farsi pigliare per il culo fa il male del Milan. Quindi prendersela con Fonseca è sbagliato. Ma stare dalla parte di questa società è ancora peggio. E vuol dire odiare il Milan, fare del male del Milan. Non vi pensate che voi siete tifosi del Milan. Non vi pensate che voi siete più tifosi del Milan perché siete dalla parte della società. Voi siete l'anti Milan in questo momento. Ricordatevelo. Non ve lo dimenticate. Siete voi che state avallando a tutta questa merda. Perché io non voglio dare la colpa a un povero cristiano che è venuto con le migliori intenzioni. Ma quella scelta è sbagliatissima. Quella scelta è dannosissima. E chi dice che è una scelta giusta fa il male del Milan. E quando Fonseca verrà cacciato via. Perché tanto sarà cacciato via. Anche se ripeto. Mi auguro sempre di no. Gli auguro sempre buona fortuna. Spero sempre che faccia bene. Ma non sono stupido. Lo conosco il calcio. So già cosa accadrà. Come sapevo cosa sarebbe accaduto a Pioli. Lo sapevo già. Quando c'erano quelle 6-7 vittorie di fila. E Pioli, Ison Pagliere è tornato. Non è tornato perché è la prima sconfitta. Tutto pubblico contro. E adesso sarà di nuovo così. L'unico allenatore che poteva salvarsi nell'odio che in questo momento i milanisi stanno provando per tutto quello che gli sta succedendo era uno. E si chiamava Antonio Conte. Che poteva permettersi di dire tempo per lavorare. Fonseca il tempo per lavorare non glielo darà nessuno. E già adesso stanno partendo con i Fonseca out. Deve ancora arrivare. Deve ancora presentarsi. Deve ancora finire il mercato. E già sono partiti i Fonseca out. E voi realmente credete che Fonseca avrà la serenità, la lucidità di lavorare nel Milan? No ragazzi. Verrà ricoperto da una malma di merda. Questo succederà a Fonseca. E io non voglio partecipare all'inizio. Non voglio partecipare. Quando lo giudicherò confermerà o smentirà le mie idee. Confermerà di essere una scelta mediocre. Un allenatore che non è granché. Che non fa nulla. Che le altre squadre si sono rinforzate. E il Milan quest'anno faticherà tanto. Mi si spezzerà il cuore. Sarò lì a buttarvi tutto lo di addosso. Società, allenatori e tifosi. Perché anche con voi ce l'avrò poi. Tutti quelli che in questo momento sono con la società. Se dovesse far bene sarò felice di non averlo condannato al suo primo giorno a San Siro. Quindi sarò felice di quello e spero veramente che riesca a fare bene. Ma fa bene. Fa male. La scelta della società non cambia. Non cambia. È una scelta mediocre. Non cambia. Fonseca, migliore allenatore della stagione 2024-2025, porta il Milan a vincere lo Scudetto. L'anno dopo il Milan deve partire sulla griglia primo. Primo. Non che vinci lo Scudetto, si rimischiano le carte, i valori in campo. È stato uno Scudetto. Va bene. Accantoniamolo. No. Io voglio che il Milan ritorni a essere la favorita per lo Scudetto ogni anno. Favorita insieme all'Inter, favorita insieme alla Juve. Quello che volete voi. Non sto dicendo che devi vincere. Perché questa è una cosa... Tanto qua alla fine del video ci sono arrivati soltanto in pochissimi. E quei pochissimi che ci sono arrivati sono persone che ascoltano. Non devi vincere tutti gli anni. È impossibile. Ma devi competere tutti gli anni. Ok? Quindi, spero che il discorso sia chiaro. Se siete arrivati fino a questo punto del video, hashtag chiaro. Se il mio concetto è stato chiaro, hashtag chiaro. Se no, riguardatevi il video e riascoltate quello che sto dicendo. Ok? E se vi metto a dire sotto un commento di Fonseca, buona fortuna. Ragazzi, io la sfortuna all'allenatore del Mina non gliela augurerò mai. Sempre forza Mina, bella.